. Ignazio Moser rompe il silenzio, l'intervento sui messaggi tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Ignazio Moser torna a parlare e interviene sui messaggi tra Cecilia e Francesco Monte. . Are di crisi, messaggi scambiati tra la sua fidanzata e Francesco Monte, venti gelidi di rottura all'orizzonte, è tutto il vociferare che è circolato nelle ultime ore attorno a Ignazio Moser e alla sua love story con la modella argentina Cecilia Rodriguez. . 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 Ignazio Moseri. Rispondo a te, ma rispondo a tutti quelli che hanno messo in dubbio questa cosa, esordisce Ignazio dal suo profilo Instagram, rispondendo a un utente e a tutti coloro che in queste ore stanno sostenendo che tra Cecilia e Monte ci siano dei contatti clandestini. Ho sempre saputo prima che gli scrivesse e cosa gli avrebbe scritto e penso che sia una cosa più che normale. Il giovane Trentino tiene a specificare che nulla è stato fatto di nascosto. Anzi, il gesto di Cecilia verso Francesco, narrato avverissimo, ha avuto il suo totale assenso perché è giusto mantenere rapporti umani con una persona con la quale ha condiviso così tanta vita. Buona giornata a tutti. Ignazio e la Rodriguez, ma quale crisi, l'amore procede sui giusti binari. Cecilia e Ignazio proseguono sui giusti binari la loro storia d'amore, sbocciata sotto i riflettori del grande fratello Vip, con tanto di trambusto mediatico. L'aria di crisi sollevata dai rumors del gossip in questi giorni non pare turbarli. Anzi, i due non perdono occasione sui profili social di mandare messaggi che virano in tutt'altra direzione. Una delle ultime store su Instagram della sorella di Belen, ad esempio, mostra lo scatto di un cuore disegnato sulla spiaggia, con dentro la sua iniziale e quella del ciclista. Dal canto suo, quest'ultimo ha pubblicato un post in cui bacia amorevolmente la compagna. Insomma, di crisi non c'è proprio traccia.